ciao bellezze rimanete lì tra due secondi arriva un bel mini video haul sui miei prodottini astra make up ma dopo la sigla ben rientrate ragazze su vaniglia chic come avete potuto ascoltare dalla presigla questo è un mini video haul dove vi mostro i prodotti che ho acquistato dal sito astra make up c'erano gli sconti ci sono ancora gli sconti e non ho potuto resistere mi servivano alcune cosine perché come si dice non importa quanti rossetti hai oppure quanti trucchi hai ma insomma la nostra scusa è sempre quella di dire però mi serve e io ho fatto così ho acquistato un po di cosine tra cui la mia amata cipria di astra e il pacchetto mi è arrivato subitissimo devo dire super veloce qui questo è il pacchetto e adesso vi vado a mostrare quello che ho acquistato allora iniziamo dallo sconto mi hanno dato uno sconto del 10 per cento da sfruttare sul prossimo ordine e penso che non me lo lascerò sfuggire perché i prodotti astra sono davvero molto molto validi allora ragazze per i prezzi dovete un attimo andare sul sito perché davvero non ricordo proprio quanto ho pagato ogni singolo prodotto per cui perdonatemi se non vi dirò i prezzi ma sono facilmente reperibili ripeto basta andare sul sito e sicuramente troverete i prodotti con i relativi prezzi e ovviamente scontati allora il primo prodotto che vi mostro è questo mascara eccolo qui e questo è instacurl mascara volume più incurvatura quindi promette sia il volume che l'incurvatura io sono sempre alla ricerca del mio mascara della vita non vedo l'ora di provarlo e devo dire che mi piace anche lo scovolino se mi riesce vi faccio passare la foto dello scovolino in sovraimpressione perché non lo voglio ancora aprire ragazzi devo finire prima il mio mascara che ho aperto perché poi si seccano e quindi non voglio aprirlo però vi faccio passare la foto dello scovolino poi ho voluto provare il correttore long stay questo è il numero 2 ed è un correttore con spf 15 si dice essere un correttore a lunga tenuta staremo a vedere speriamo che ho preso la colorazione giusta ad ogni modo insomma vi farò un piccolo swatch sulla mano e vi farò vedere dopo in un mini video insieme agli altri prodottini un altro correttore è questo qui ed è un correttore con proteine della soia e burro di karité ed è un correttore naturale al 90% anche questo insomma sono molto curiosa io adoro provare i correttori ho voluto comprare di nuovo la mia cipria questa è una cipria compatta di astra che praticamente è una cipria molto naturale questa è la beige ma ci sono molte tonalità tra cui una beige rosé molto interessante che vorrei sicuramente provare ecco qui qui c'è la spugnetta e questa è la cipria mi sono trovata molto bene con questa cipria è molto adatta alla mia carnagione non va ad alterare il colore del fondotinta non secca la pelle per cui è davvero davvero buonissima nel mio haul non poteva mancare un rossetto liquido questo è il numero 16 millennium hypnotized eccolo qui e di questo vi farò lo swatch dopo in un mini video vi farò vedere quanto è bello questo questo rossetto che si chiama millennial millennial eccolo qui e poi ho preso anche poi ho preso un blush sapete il mio amore smisurato per il blush questo è il numero 4 ed è un malva davvero molto molto bello ragazze eccolo qui insomma dopo ripeto vi faccio vedere tutto da vicino quindi non perdete la fine del video ed in ultimo ho voluto provare il fondotinta 16 ore astra transformist questo è un fondotinta più correttore ed è il numero 2 eccolo qui e ci ho azzeccato anche con il colore devo dire e poi ragazze mi hanno omaggiata di questo bellissimo matitone ecco qui omaggio allora si tratta di un matitone waterproof liner e eye shadow il colore è molto bello ragazze eccolo qui è un perla un color perla molto molto bello ma comunque vi farò lo swatch nel mini video che vi lascio alla fine del video quindi io ho finito vi ricordo di iscrivervi al canale se siete qui di passaggio e non l'avete ancora fatto lasciarmi un like un commento io adoro leggervi adoro rispondervi fatemi sapere anche voi che cosa avete acquistato sul sito di astra magari che cosa avete acquistato in generale se avete fatto anche voi danni con i saldi e io per il momento vi saluto vi ringrazio vi mando un grande abbraccio vi aspetto alla prossima volta ciao 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 ciao